Vengo dal dottor Danello da 20 anni, lo conosco quindi da una vita e venire qua significa venire in un posto in famiglia perché supero, non ho più paura del dentista e vengo in un posto dove so che vengo curata bene, non vengo curata solo nei denti ma proprio come persona.